Siamo con Fabio Scarsella al termine di Feralpi Salofano 1-0, un altro gol per te, sei ancora di più oggi il capocannoniere della squadra, ma sicuramente il gol di oggi è davvero molto molto importante. Sì, oggi più delle altre volte era veramente importante vincere perché come abbiamo visto dai risultati la classifica in testa si è accorciata veramente tanto, siamo in quattro squadre a 22 prima del posticipo di domani sera, però siamo lì e oggi abbiamo dimostrato che magari anche non essendo stati molto molto brillanti come i mercoledì a Terni, però abbiamo dimostrato la voglia di vincere, lo spirito di sacrificio, tutte quelle doti che il gruppo è riuscito ad esaltare per venirne fuori da questa partita insidiosa. Adesso ci saranno di nuovo due trasferte, di fatto con un po' più di tempo tra l'una e l'altra rispetto a quelle dell'ultima settimana, saranno partite altrettanto difficili, però ecco la partita di oggi ha servito un pochettino per ridare soprattutto morale e certezza nei propri mezzi. Sì, sì, avevamo bisogno anche di una botta di adrenalina, un po' di entusiasmo perché dopo la brutta partita di San Benedetto avevamo già reagito a Terni, però reagire e non portare a casa i tre punti conta poco. Oggi magari avendo fatto un piccolo passettino indietro sul piano della prestazione abbiamo portato via i tre punti, è la cosa più importante perché la squadra prosegue il suo cammino e sarà insidioso fino alla fine, già da domenica affrontiamo una squadra che oggi ha vinto a Teramo. Quindi noi dobbiamo abbassare la testa, pedalare e alzarla a maggio.